Coronavirus, un'altra vittima, si tratta di un ottantenne di Avellino che era ricoverato nel reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale San Giuseppe Moscati del Capoluogo. L'anziano, FP le sue iniziali, era ricoverato dal primo aprile scorso e si tratta del primo morto di Avellino. Nel reparto di rianimazione intanto restano ancora assistiti 5 pazienti Covid, in attesa che venga aperta proprio domani la Palazzina Alpi. E resta ricoverato, sempre al Moscati, anche il dottore Carmine Sanseverino, dirigente del reparto di medicina d'urgenza, protagonista in corsia della lotta al Covid. Proprio una sua paziente, di solo frangela lettieri, ha sconfitto il virus e racconta la straordinaria assistenza avuta in ospedale. Ho saputo che anche il dottore Sanseverino, che ha guarito me, in questo momento ha contratto il virus. E io di lui ho un buonissimo ricordo. Ricordo ancora quando veniva nella stanza a visitare noi pazienti e ci spronava e diceva Forza ragazze, che dovete tornare a casa, state guarendo. Vedevo solo i suoi occhi, perché si vedevano solo gli occhiali sui occhi. Lo vedevo stanco, col sudore che gli scendeva dalla fronte. Ma lui ci ha sempre dato forza. Voi che avete dato tanta forza a noi pazienti, che ci avete sempre spronato ad andare avanti, a guarire. Forza dottore, forza che ce la fate anche voi. Ad Avellino intanto l'associazione Controvento bacchetta il sindaco festa per il suo Dream Team, un trio di esperti, per la ripresa dopo l'emergenza coronavirus. Avellino non è una Repubblica autonoma, spiega Cipriano. Oggi più che mai c'è bisogno del coinvolgimento delle forze sociali e produttive, perché sia patto per l'Irpinia. Nessuno può farcela da solo.